Circondato da meravigliose ballate e giardini, il Casale Margherita è una location unica per festeggiare un matrimonio caratterizzato dalla tranquillità e dalla pace. Lo spettacolo della natura diventa qui fonte di gioia e bellezza, che renderà il vostro ricevimento come quello che avete sempre sognato. Le grandi e comode sale, arredate con semplicità e gusto per rispettare la struttura rustica del casale, saranno il luogo perfetto dove allestire il vostro ricevimento. Gli spazi esterni donano una meravigliosa vista sul paesaggio che circonda questa struttura. Le vallate diventeranno la cornice perfetta per il vostro romantico evento all'aria aperta nei mesi più caldi. La professionalità e l'efficienza dello staff saranno in grado di soddisfare ogni vostra necessità, allestendo e organizzando il ricevimento secondo i vostri desideri. Al Casale Margherita, inoltre, sarà possibile continuare a godere degli splendidi spazi e del servizio impeccabile, alloggiando in una delle sue eleganti e confortevoli camere. Presso il Casale Margherita, la cucina tradizionale siciliana incontra quella nazionale e internazionale, creando un connubio di sapori e profumi che riuscirà a stupire sia voi che i vostri invitati. Casale Margherita sarà lo scenario perfetto per un ricevimento indimenticabile.